Siamo arrivati al momento della partenza dell'Amerigo Vespucci dal porto di Los Angeles. Felici di quello che c'è stato, un po' tristi per lasciar vedere la nave che ci lascia e che continua il suo straordinario tour mondiale. Noi siamo così riconoscenti per questa visita, per averci regalato dei giorni indimenticabili. Tutti gli italiani che vivono qui a Los Angeles, gli italoamericani, gli americani, ci hanno mostrato un interesse e un amore nel nostro paese che è commovente. Io sono grata al governo italiano, a coloro che hanno reso possibile questa straordinaria avventura. Ovviamente sono grata anche alla regione della Sicilia, al presidente Sifani, all'assessore Rita Maio per averci regalato dei momenti indimenticabili grazie anche al genio, all'estro e all'impegno di un popolo siciliano. La piazza Italia si è infiammata, si è infuocata e ha sognato la Sicilia. È stato uno dei momenti più emozionanti di tutta questa esperienza. Abbiamo portato il bello della Sicilia, abbiamo fatto sognare ospiti del villaggio Italia e sono certa che questo sarà un elemento che aiuterà ancora di più a far scoprire questa meravigliosa terra ai nostri amici americani. Sono certa che la Sicilia continuerà ancora ad essere presente in questo posto straordinario che è la California e Los Angeles.